Alle ore 11 e 30 di domenica il soccorso alpino di Arsiero è stato allertato a seguito della chiamata di un passante che si era imbattuto in una donna colta da malore lungo la strada della ferrovia che da Piovene Rocchette arriva ad Arsiero. Partita da casa a piedi, la cinquantena del posto aveva avuto un probabile calo di pressione ed era caduta a terra sbattendo la testa. Cinque soccorritori, compreso un infermiere, l'hanno raggiunta con un egipe sulla pista ciclopedonale, dove è sopraggiunta anche l'ambulanza. Caricata a bordo, la donna con un probabile lieve tramacranico è stata trasportata all'ospedale di Sant'Orso per le verifiche del caso.